Francia. Torna fiducia media tradizionali. ANSA. Parigi. 23 gennaio in Francia torna la fiducia nei media tradizionali. Stando a un sondaggio realizzato dall'Istituto Cantar soffre se pubblicato per la Croix. Il 56% dei francesi ha fiducia nella radio. Il media ritenuto più credibile. Più 4% in un anno. 52% nella stampa scritta. Più 8%. E 48% nella TV. Più 7%. Il 90% auspica che i media forniscano un'informazione affidabile e verificata. Decisamente meno forte il livello di fiducia rispetto all'indipendenza dei giornalisti. Fermo da anni intorno al 30%. Quest'anno, il 68% ritiene che i professionisti dei media siano permeabili alle pressioni del potere politico. E il 62% al mondo del denaro. Circa il 76% ritiene tuttavia che abbiano riportato piuttosto bene la corsa all'Eliseo dello scorso anno contro il 18% di parere contrario. Solo il 25% ritiene invece credibili le informazioni trovate sul web.